è una ricetta tipica del nord Italia, è il risotto con le mele, prepariamolo insieme in una casseruola scaldiamo dell'olio extravergine di oliva e uniamo uno scalogno finemente tritato aggiungiamo il riso e lo lasciamo tostare per qualche minuto poi lo sfumiamo con del vino bianco appena evaporato il vino uniamo il brodo caldo che abbiamo preparato in precedenza copriamo il riso con il brodo e lasciamo cuocere a fiamma bassa che tipo di mela usare? quella che abbiamo a casa oppure possiamo comprare le mele arenette sono una qualità farinosa e nel risotto sono perfette tagliamo una mela a fette poi a bastoncini e infine a cubetti di media grandezza scaldiamo una padella antiaderente sul fuoco e facciamo sciogliere del burro a questo punto facciamo caramellizzare la mela preferisco far caramellizzare la mela a parte per avere proprio quel contrasto fra il crunch della mela e il morbido del risotto se mettiamo la mela in cottura insieme al risotto si vesserà ed è come non averla messa controlliamo il risotto spegniamo la fiamma e aggiungiamo il burro a fine cottura per mantecarlo bene uniamo il parmigiano e proseguiamo la mantecatura non appena raggiungiamo una buona cremosità uniamo le mele che abbiamo cotto in precedenza siamo pronti per impiattare con una piccola decorazione ciao 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 ciao